Buongiorno Giovanni Totti, ad Asti si parla molto del retroporto di Genova, qual è la sua opinione in merito? Secondo lei è un progetto al momento attuabile o manca ancora una rete infrastrutturale? La mia opinione è che i giganteschi investimenti che si stanno facendo sul fronte mare, sulle aree portuali della Liguria necessitano di uno spazio nell'entroterra fondamentale per la catena logistica, la nuova diga, le nuove banchine, tutto quello che si sta elaborando e lavorando in regione Liguria comporterà un aumento forse di tre volte nel numero dei contenitori e poi le autostrade del mare, perché no anche un flusso turistico importante dedicato alle crociere e ai traghetti. Tutto questo nello spazio Ligure ovviamente non ci sta, occorre avere una catena logistica rapida, efficiente e efficace che abbia nel retroterra piemontese ovviamente una parte della sua catena. Per questo Asti, per questo Alessandra, per questo Rivalta, per questo tutta la fascia vicino alla confine sono le aree fondamentali per questo sviluppo e a questo stiamo lavorando. Ne abbiamo parlato all'Università d'Alessandria non molto tempo fa, ne parleremo oggi, se ne parla in questa campagna elettorale che ovviamente investe i temi fondamentali della politica di crescita del Paese, ne parleremo con il Presidente Cirio, qui siamo legati da una cabina di regia insieme alla Lombardia che tornerà a riunirsi credo già nelle prossime settimane. La legge Genova, quella che fu voluta per il ponte Morandi crollato, aiuta a individuare delle aree e le volontà ci sono, sia dei porti sia delle amministrazioni, occorre muoversi e lavorare perché tutto questo diventi realtà nei tempi rapidi del PNR. Il Sindaco di Asti Maurizio Rasero ha detto che nei cinque anni di amministrazione è mancato l'apporto di moderati alla sua coalizione. Cosa potrebbero portare il pollo centrista, insomma la parte più centrista che lei rappresenta a questa coalizione nei prossimi cinque anni? Spero concretezza, pragmaticità, visione, assenza di velleitarietà, toni sobri, misurati ma non per questo non convinti o convincenti. Noi abbiamo bisogno, e questa è l'esperienza di Italia al centro, di tutte le liste che portano questo nome, il compito che ci siamo dati all'interno della coalizione di centrodestra rappresentare il migliore spirito uniformista, laico, popolare di questo paese lasciar perdere una stagione di politica forse troppo urlata, spesso troppo velleitaria per riportare la buona amministrazione come quella del Sindaco Rasero qua e dargli ancora più spessore con solidi rapporti con il mondo dell'impresa con il mondo delle professioni, con appunto quell'Italia che produce, lavora e vuole dalla politica delle risposte e non degli slogan. Ad Assi c'è un candidato di azione, lei lo vedrebbe bene in una coalizione allargata al centro? Ma guardi, io guardo con grande simpatia a Carlo Calenda che è un ragazzo molto preparato ha fatto bene il ministro ed è spesso su posizioni indipendenti e anche originali è evidente che non dipende da noi, dipende da loro dovranno prima o dopo scegliere gli amici d'azione se ridurre come talvolta appare la loro esperienza politica a un'opera di testimonianza tra gli schieramenti un ruolo da grillo parlante talvolta utile ma spesso poco incisivo oppure in qualche modo mettere i piedi nel piatto di quella che è la vera politica del paese quella fatta di schieramenti, quella fatta di governo, quella fatta di mediazioni, di accordi per poi scegliere e governare che è l'essenza stessa della politica Azione ha tante buone idee, spesso posizioni condivise talvolta la vedo in preda a pulsioni un po' isolazioniste che se dovessero venire a cadere ovviamente ci vedrebbero come interlocutore privilegiato e tali li considerano